ancora ciao a tutti ragazzi e ragazze io sono cicomalo e ben ritornati in questo nuovissimo video dell'app di mobizen oggi si gioca ancora il videogioco di loki craft ma questa volta aia la testa aia mi perché mi fa mi sta facendo male cazzo allora questa volta ho deciso di di fare come l'altra volta cioè cioè non l'altra volta tipo come dieci mesi fa cioè che costruivo che costruivo una casa beh sì una casa veramente adesso grande ma molto grande crea un nuovo mondo perché quando ci stanno i mondi creativa avanzato piatto crea mondo finalmente il nostro mondo piatto e finalmente funziona l'inventario perché non so se vi ricordate ma l'altra volta non funzionò vabbè non andiamoci a pensare e andiamo a costruire la nostra casa non voglio pubblicità oppure aggiornamenti grazie non voglio neanche delle sigle no 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 non mi fa piacere no perché ho sbagliato perché nella mia vita io devo sempre sbagliare la facciamo grande fino a qua ok perché se no è troppo grande è già grande così ragazzi ma no 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 era troppo grande se no c'è già il grande di suo ma non andiamo a esagerare ok perché poi ragazzi la casa deve avere anche un soffitto ok basta fino a qua ok bene ok qua dopo qua no perché esiste la vita oh mio dio ma dai perché come è possibile sta cosa ragazzi ragazzi vabbè comunque questa argilla rossa sto sto costruendo la casa con l'argilla rossa però non vorrei che mi spappola tutta la casa ma vai a morire ma 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 perché perché esiste perché ok oh aspetta 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 un attimo la voglio far già da così no no cazzo dove la metto questo lo voglio mettere qua che casino della madonna ma proprio che casino della madonna oh oh ma che cazzo ma va tuttana troia ladra vacca strozzata ma va a morire ammazzato da qualcuno ma perché non muori perché non muori ma perché adesso non funziona manco l'inventario c'è ma anche pubblicità ma anche pubblicità ma no basta 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 la smettila subito basta che schifo è ma cos'è sto schifo ma ma cos'è sto schifo ma va perché c'è cosa che cosa ma io non ci sto credendo ragazzi non ho proprio parole di quello che è accaduto perché in realtà non non voglio che ci stia sta cosa perché c'è la pubblicità brutta come già c'è già è brutta la pubblicità ma questa è ancora più brutta di tutte è arrivato ok perché non mi funziona l'inventario però ma dai vabbè allora lo userò come fiore qua ah ok allora dormirò nell'erba perché in realtà non voglio scavare tutto sto prato tutto sto casino vabbè ci metto questo questo coso di legno in realtà non ci dovrebbe essere non no perché oh non mi fai manco volare come l'altra volta perché non me lo fai fare come l'altra volta cosa c'ha quest'altra volta cosa ti ha ispirato ecco bene adesso non so se mi fa scendere non so perché in realtà non mi faceva scendere come l'altra volta c'è io non voglio giocare più a lucky craft ragazzi c'è ma perché 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 no ma perché ci continua a giocare no ma cos'è sta webcam allora no ma vabbè vabbè lo lascio perché qua in realtà ci doveva stare per dopo quindi già faccio così ok avanzo di due bene bene ok i lavori stanno procedendo bene per ora per ora non dico che procedono bene beh infatti porca puttana oh ma che cazzo perché non posso perché non può perché esiste c'è perché sto gioco esiste a non fare nulla questi bug ma vai a morire ammazzato la tua madre ve la tua madre morta vecchia aggiornamento delle palle bene era c'è era meglio il minecraft normale perché non mi sono io non sto c'è alla nintendo switch ci gioco c'è ci gioco alla nintendo switch perché in realtà purtroppo non lo posso collegare alla nintendo c'è come si fa e lo faccio così no allora ecco qua quindi adesso faccio qua la casa deve essere alta fino a la casa deve essere alta fino a porca ma vai a ma muori tu muori imbecille delle palle ma muori ma perché c'è io volevo giocare bello a lucky craft che per ora sta proseguendo bene sta sta proseguendo bene con i lavori e io tanto lo sapevo lo potevo sapere ma invece no c'è un casino un casino assurdo oh porca miseria c'è ladra c'è un casino proprio assurdo per non voglio dire altro perché c'è eeeh qua è ok ok qua sta bene ma ma veramente vuoi morire un attimo solo devi aspettare il mio turno ok allora adesso spiego la casa deve essere di argilla rossa come adesso sto prendendo l'argilla rossa eeeh la aspetta mi devo allontanare l'argilla rossa che adesso la finirò questa casa non so non so proprio bene quando la finirò eeeh c'è dobbiamo vedere proprio come come dovrebbe diventare alta e questa cosa non si può spostare comunque questa webcam questa cam eeeh scusa ma va ma 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 porca troia puttana troia maa maaa stiamo scherzando ok non voglio stai zitto maa ma mi ha fatto rialzare cazzo ma che cazzo fai ma cosa fai oh ma 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 allora no ma puttana troia ma vai a morire cazzo non mi bestemmio mi bestemmio no cambio mondo addio grazie ciao scusa addio oh ah ho capito ah no ho capito ho capito allora c'è però come ecco è risolto è risolto è risolto ma vai ma perché non so mai parlare nella mia vita ecco pensavo che non era mai risolto niente un ca ho detto argilla rossa che mi faccio dell'argilla nera ecco ecco cioè io pensavo che adesso non mi facevo uscire da un cazzo di gioco cioè perché è difficile giocare a sto gioco cioè dieci mesi fa me lo ricordo benissimo voi vi ricordate che c'è dieci mesi fa era andato tutto bene tutto benissimo invece qua non è andato bene per niente c'è anche quando l'ho installato quando quando io ci ho giocato quando non ve l'ho fatto vedere in video funzionava c'è anche funzionava non funzionava in video però in cosa funziona non funziona vabbè vabbè l'altezza della casa credo che dovrebbe essere ma va muori muori spirito santo por cioè vabbè dormo basta dormo addio ma che cazzo è che cazzo cavallo di merda cioè adesso come cazzo dormo devo fare i lavori ah no le torce le torce ecco oh adesso ci saranno i lavori in pace ma va a morire muori muori stupido blocco di merda ma va ma muori perché ma perché cazzo esiste la vita perché cazzo hanno creato sti giochi di merda perché cazzo hanno voluto che tutti nascessero ma che in che cazzo di pianeta di merda viviamo all'ospizio viviamo c'è c'è queste persone che hanno creato il gioco si devono curare non noi c'è non nel senso che c'è che cazzo mi ha fatto anche rialzare ma 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 adesso adesso porco due bestemmio totalmente se adesso mi se adesso mi fa sbagliare ancora bestemmio profondamente ma una di quei bestemmioni che nessuno si sarebbe immaginato da me ma nessuno proprio bestemmiona gigante la più gigante bestemmiona del mondo non mi voglio neanche far vedere c'è mi vergogno di sta cosa non si si devono vergognare avevo detto che bestemmiamo c'è io devo bestemmiare oh puttana ma ma c'è ma come fai come fai a resistere se il gioco è rotto e non e non ti fu e non ti funziona un cazzo se come si fa non ti non ti ma vai ma puttana ma adesso muori troia puttana troia di ma troia de mam eh dai santissimo vai fallo da sotto fallo fallo io ti aspetto qua dai fallo fallo stupido deficiente vacca stupida vacca e mo tutte ste torce la mattina mi servirebbero oh c'è ok sto centrato cazzo dai ma sto inventario del cazzo perché non mi non mi si funziona c'è ma che cosa vuol dire eh oh oh cazzo c'è perché sto inventario ecco no era la libreria il letto mi vo no ecco dove è letto no cosa ti ho detto che cosa ti ho detto monnoggiata la puttana troia se muori se io ti vedo adesso muori che cazzo ti ho detto io eh puttana troia eh mi se mi serve il letto troia oh dormi no oh cazzo puttana oh no 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 si abbassati cazzo abbassati di più puttana c'è ma porca troia abbiamo rotto il mondo torno al menu principale porca troia puttana troia morta c'è ma ma che cazzo è c'è dai ma alla fine cosa faccio cosa vabbè la casa la facciamo di legno però la facciamo piccolina la facciamo piccolina 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 ma perché se no non me lo fa anzi non me lo fa anzi oppure faccio qualche qualche altra cosa posso fare qualche altra cosa invece che la casa aspetta 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 ma oddio non so se si può fare no aspetta 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 ecco ho creato una T e adesso cosa ci manca ragazzi ho deciso di fare una costruzione nuova allora prima di tutto prendiamo il centro che è questo ecco qua e che cos'è questa ragazzi indovinato ma 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 allora mi prendi in giro mi prendi in giro eh se mi prendi in giro non va mica bene eh ok se no se mi prendi in giro non va mica bene adè ma ma adesso la pu non iniziamo con le pubblicità non ci iniziamo cos'è sta cosa che cos'è ma cos'è sta ecco ecco la pubblicità se n'è andata raga tranquilli eeeh allora che cos'è sto rumore cioè io sento un rumore in casa non so è il cane il cane raga il cane sta graffiando la porta cos'è sto botto ok ok adesso basta adesso faccio così o faccio così ok senza chiuderlo perché se no cosa eeeh non mi fa più volare c'è 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 l'ultimo episodio è andato male vabbè facciamo che non lo portiamo più all'occhi craft facciamo così ecco no no eh no no ti piacerebbe sto figlio di una grande madre eh ti piacerebbe però lo chiudiamo lo chiudiamo ma si lo chiudiamo aspetta un attimo un attimo oh oh avvicinati ehi ma che cazzo scusa mucca te ne vai dall'altra parte ma che bella mucchina che bella mucca piccolina piccolina eh cos'è sta mucca eh che cos'è sta mucca sì no aspetta eh ok adesso facciamo qua dentro ah sì anche qua anche qua bene ok ho deciso di chiare tipo di creare tipo una piattaforma ma non andiamo mica d'accordo così c'è cos'è sta cosa ma allora che cos'è questa cosa non perché c'è cosa cosa allora è una pubblicità strana dove ci sono delle carte e non ci sono delle cose strane aspettate un attimo dove è finito il mio filo sto cosa di filo marzo ok adesso carichiamo qua bene adesso costruiamo qui bene qua tutto di legno e adesso eh ma ci vuole un'infinità d'anni facciamo facciamo così c'è lo chiudo tutto per bene devo decidere a cosa devo fare perché ma 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 perché c'è una mucca intrappolata dentro c'è come ah no c'è ma cosa in che che senso perché cosa vuol dire ah lo chiudo anche qua si chiudo qua chiudo qua chiudo qua chiudo qua chiudo qua chiudo qua adesso no adesso qua no ok adesso qui bisogna fare tutta una costruzione no griffo il mondo così ragazzi bene adesso dobbiamo fare qua tutto di legno ed è finita la costruzione nuova facciamo che questa costruzione la vorrei chiamare stalla c'è mangime per gli animali c'è ci sono perché ragazzi ci sono un'infinità di animali tutti strani perché la c'era prima c'era una pecora intrappolata una pecolina qua ma dove dove cazzo no aspetta aspettate regà non ha senso dove caspito sono dove ah no ok ho capito pensavo il finimondo vabbè ok non ci pensiamo va bene qua 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 pure qua pure qua pure qua pure qua dopo qui qui bene e adesso qua facciamo tipo un coso qua e scusate ok quasi finita la cosa ok 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 ragazzi siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo manca qua manca questa parte questa quella là andiamo a finire prima ma chi cazzo è ma chi cazzo è ma qual è la pecora che fa no che cazzo è vabbè comunque andiamo a finire questa parte abbiamo finito e adesso per finire quest'altra parte che è bella facile bella facile sta parte abbiamo finito completamente che cos'è sta cosa aspetta dobbiamo fare anche qua in realtà non abbiamo finito proprio tutto per bene dobbiamo fare anche qua no ragazzi ci sarà nella seconda parte perché in realtà questo video non so se lo farò completo perché in realtà no cioè io e io in realtà i video credo di staccarli perché io li so pure staccare li so pure togli cioè unire e staccare cioè non lo so ho trovato anche un'altra applicazione che però adesso non mi serve più però potrei fare però cioè non so non so aspettate cioè non so se questo video finirà no 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 sta venendo la notte sta venendo la notte sta venendo la notte la notte la notte la notte no 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 devo finire devo finire devo finire perché ok raga io ho fame cioè è sera è sera e ho fame ho fame oh pollo oh pollo levati dal caspito cosa devo finire finisco sta cosa va bene no 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 ma perché perché esiste la vita ok adesso devo smettere di dirlo perché esiste la vita se in realtà non lo dico solo quando 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 mi incazzo no ho fatto tutto un casino qui assurdo un casino assurdo l'ho fatto no ma chi cazzo è chi cazzo è che ride chi cazzo è chi cazzo è no aspettate 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 c'è no ho sentito una risata ma cos'era raga cos'era cos'era c'è no ma cos'era raga camma frontale ok la metto qua ok bene ragazzi il video finisce qui e comunque vi ricordo di iscrivervi al canale attivare la campanellina lasciare like e scrivere qua sotto un commento e grazie a tutti per aver visto il video nel frattempo meno che finisca qui il vlog meno che lo chiuda spero vi sia stato utile piacente da noi io Cico Malo Jonas Vannis Ettore Svanis e Gioel Vannis i miei due fratelli i loro nomi veri e anche il mio nome vero siamo sono io Jonathan Vannicola e Gioel Vannicola insieme siamo noi con voi con te il gruppo di youtuber fra di fratelli anche se il canale dovrebbe essere mio e da noi tutti ancora ciao a tutti ragazzi ragazze grazie a tutti per aver visto il vlog di nuovo io ho sentito una risata malvagia non so cosa sia comunque ciao ciao c'è ragazzi questa qui in realtà non staccherò i video se vedete che questo video è finito vuol dire che i video li ho terminati io in realtà il video li sto ancora facendo il video lo sto ancora facendo però ho deciso di staccare questi video proprio perché mi volevo mettere al montaggio vabbè sarà per un'altra volta ciao ciao